No, guardate, io ci provo perché sto venendo da scuola, dagli scrutini, quindi sono, come dire, un pochino confuso. No, stamattina abbiamo avuto la rappresentazione del perché la politica è in declino, no? Mi sembra chiaro. I politici arrivano, ti fanno i loro discorsi, poi se ne vanno e non ascoltano. Quindi, secondo me, dovrebbero farsi una domanda e darsi una risposta. Ma non per i contenuti delle cose dette, perché magari possono essere anche cose interessanti, però vedete, c'è un problema, che la democrazia della rappresentanza prevederebbe che qualcuno rappresenti gli altri, non se stesso. Mentre invece sono i loqui, non ci servono a nulla. Ora, io vorrei fare in modo che anche noi non scadiamo più o meno nello stesso errore, perché qualche volta anche noi tendiamo ad essere abbastanza autoreferenziali. Però oggi veramente ne abbiamo proprio avuto una bella rappresentazione. Dopodiché, io, nelle cose che ho sentito, ho cominciato un po' a inquietarmi, perché delle magnifiche sorti progressive di cui parlava anche Silvia Mastronardi oggi, non ce ne facciamo assolutamente nulla, perché noi abbiamo bisogno di affrontare le criticità, e di criticità ce ne sono tante. Nella scuola, ripeto, io vengo dagli scrutini, beh, sapete, io lavoro in un professionale, e in quella scuola lì ci sono quello che io chiamo il sottoproletariato urbano, quello che sta scivolando sempre più in basso. Migranti, ragazzi che sono in difficoltà nella scuola, nella scuola dell'obbligo, e che fanno fatica a stare a scuola. E in più, persone che hanno, scusate, ma qui ci sono queste specie di fari, perché io sono abbacinato, e mi sento un po' come una rana sotto un faro. Anche questo viene scalato, vero? Ok. La cosa che volevo però dirvi è questa, io sono molto preoccupato quando sento parlare che bisogna innalzare il numero di laureati, perché io ho il problema di fermare i ragazzi a scuola, perché molti di questi spariranno e andranno a finire o nel dimenticatoio o diventeranno preda del lavoro nero e della, come dire, posso dirlo, della criminalità, della devianza, perché di questo stiamo parlando. Allora, quando io sento che la politica si occupa di quelli che stanno in alto, vorrei che si occupasse anche di quelli che stanno sotto, che sono molti di più. E credo anche, bene Cristian ha fatto oggi due passaggi, mi sono piaciuti molto, io la chiusa è piaciuta molto, anche a me è inutile che ci stiamo a raccontare ciò che ci piace, perché tanto lo sappiamo che condividiamo tante cose, però due passaggi mi sono interessati molto. Quello sul PCTO, l'alternanza scuola lavoro, e, come dire, quando lui diceva e parlava della necessità di dare un futuro a tutti noi, parlando degli anziani, ma non solo degli anziani, io parlo anche dei giovani, perché dare un futuro agli anziani vuol dire dare un futuro soprattutto ai giovani, quando lui diceva che è un futuro migliore per tutti, no? Bene, io credo che questi due temi stiano insieme, e temo che noi, se non ci scordiamo, che non basta fare dichiarazioni, perché vedete, la politica ha anche questo difetto, che fa le dichiarazioni in pubblico, poi dopo i documenti e gli atti che fa sono esattamente diversi da quello che dicono, il regionalismo differenziato, documento regionale, in cui si parla di acquisizione della formazione tecnica e professionale all'interno dei sistemi. Poi, dopodiché, che lui voglia toglierlo, me lo fa con un atto formale, perché lui è ancora Presidente di questa Regione, e delle sue dichiarazioni pubbliche non me ne frega assolutamente niente, scusate, perché quella fa parte delle marchette per diventare segretario o meno, e io in quelle vicende non ci voglio entrare, con tutto il rispetto che ho per i partiti, e per carità di Dio. Dopodiché, io mi chiedo anche di tutto quello che ci è stato detto, cosa ricade su di noi, perché di questo non ho mica ben capito che cosa ricade sul nostro lavoro quotidiano, la nostra fatica di rappresentanza, perché vedete, io e i miei alunni cerco di educarli alla democrazia attiva, non alla democrazia rappresentativa, perché c'è una bella differenza tra l'una e l'altra, perché una vuol dire che tu sei attivo nel cercare di rappresentarti e di chiedere rappresentanza alle tue stanze, l'altra vuol dire che tu deleghi qualcuno dopodiché ti disinteressi della cosa e loro vanno avanti per la loro strada, che è esattamente quello che sta accadendo sempre di più e che porta un distacco, un divario sempre di più tra i rappresentati e i rappresentanti. Non ci meravigliamo poi se la gente non va a votare, perché vedete, io non mi preoccupo solo e tanto perché vanno a votare a destra, il problema è che questi qui prendono pochi voti di pochissimi votanti, e il problema è di tutta la fascia di popolazione che non si sente più rappresentata e che non sa più chi votare. E ripeto, stiamo attenti, i miei alunni hanno bisogno di imparare che cosa vuol dire rappresentarsi. Ecco perché è interessante il tema di, i temi che erano interessanti, quei due temi che trattava, che trattava Sesena questa mattina nella sua relazione, perché nel momento in cui io ti contatto per cercare di tutelarti, ti faccio sapere che esisto, nella scuola il PCTO, nel PCTO questo non esiste, perché sapete come funziona? Io scuola ti mando a lavorare, non c'è intermediazione. Tu come lo pensi il mercato del lavoro nella tua testa? Che non c'è nessun corpo intermedio. Per cui il sindacato quando si presenta diventa una specie di zombie che ti arriva lì e che magari ti toglie anche, ti rompe anche un po' le balle, perché ti viene a chiedere di far sciopero, di partecipare all'assemblea, di conoscere il contratto, ma cosa vogliono questi qui da me? In più, oggi mi è arrivata una circolare in cui si parla della formazione sulla sicurezza, perché nelle scuole col PCTA siamo obbligati a fare i corsi sulla sicurezza e nello stesso tempo lo deve fare anche il datore di lavoro. Ora, io voglio sapere, il sindacato in tutta questa partita dove sta? Sta in quel luogo, in quel posto che è di chiedere che ci sia rappresentanza anche di quelle forme di lavoro, perché quei ragazzi lì, sono lavoratori a tutti gli effetti, però gli succede un incidente e non hanno diritto a nessuna tutela e nessun risarcimento. Allora, vedete, noi possiamo fare tutti gli elenchi che vogliamo nei nostri documenti. Due cose, però, dobbiamo sempre tenere presente. Primo, innalzamento secco dell'obbligo scolastico non funziona, molti dei miei ragazzi a scuola non ci vogliono stare. Innalzamento come prospettiva per dell'obbligo scolastico vuol dire che io lavoro per costruire una didattica che tenga i ragazzi a scuola, quindi una didattica plurima che permette ai ragazzi di ritrovarsi. Quello che dice la ricerca di cui parlava Silvia oggi, i nostri ragazzi li esprimono tutti come sentimenti, soprattutto la rabbia. Sono incazzati neri col mondo perché sono stati chiusi, perché non trovano nella scuola la risposta che vorrebbero. Allora, io chiedo che il sindacato cominci a dar voce anche a queste cose, anche se non sono nostri iscritti, perché il loro essere nella società noi dobbiamo rappresentarlo e dobbiamo tenerlo presente, così come dobbiamo tenere presente che nelle scuole, se voi andate a dire che innalziamo l'obbligo a 18 anni to cure, ci tirano le sedie dietro. Abbiamo avuto una rappresentazione plastica nelle assemblee dei nostri lavoratori, che peraltro neanche pochi, tra l'altro, perché molti non vengono neanche più alle assemblee. Quindi anche su questo dovremmo riflettere, perché anche noi rischiamo di avere partecipazioni che sono veramente molto basse. Quindi, io chiedo questo alla CGL, che abbia un'idea forte di scuola al centro della società, ma non perché io ho mania di grandezza, perché penso che la cultura ed essere lavoratori consapevoli sia fondamentale, ma per diventare lavoratori consapevoli noi abbiamo bisogno assolutamente di dare una prospettiva di valore ai giovani. Prospettiva di valore non vuol dire che diamo i nostri valori, ma vuol dire che riusciamo ad ascoltarli, a interloquire con loro, a trovare insieme che strada fare. Forse probabilmente andranno a imbrattare ancora la Camera e il Senato, ma pazienza, l'abbiamo fatto un po' anche noi, quindi non stiamo a fare tutti puristi, perché sennò va a finire che sembra che noi siamo sempre stati quelli bravi che non hanno mai e arriva questo qui appunto con gli occhialini tutto tirato, che sembra che prima non avesse fatto niente, no, ma forse lui probabilmente sì, io però i muri qualche volta li ho imbrattati, ho messo fuori anche degli striscioni e dei cartelloni, mi sono beccato anche qualche foto dalla politica, insomma, quando sono andato a fare domanda di servizio civile e mi ha tirato fuori un faldone così dicendo Melandri ma lei queste cose qui ha detto ma beh pazienza le ore di gioventù cosa vuole che le dica, per cui cerchiamo di non essere troppo puri e casti noi, perché queste robe le abbiamo fatte anche noi, allora per non perdere il contatto con i giovani ricordiamoci che cosa siamo stati noi e le rivendicazioni che facevamo noi, sapete la differenza tra noi e loro qual è? Che noi le rivendicazioni le facevamo, loro non hanno più la forza di farle e se non gli diamo voce noi nessuno gliela darà e credo che la CGL sia la casa in cui devono stare quei giovani e se noi non ci facciamo vedere quella casa non esisterà mai ecco perché i temi di cui parlava Cristiano oggi sono fondamentali perché possono essere il punto di attacco in cui si cercano di mettere l'istituzione intorno a un tavolo e di dire che cosa succede in questa provincia quando i ragazzi vanno a lavorare sono solo sfruttati e li educhiamo al lavoro disintermediato oppure diventa un atto di educazione civica al lavoro e non sostituzione di mano d'opera al lavoro nero eccetera 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 perché di questo stiamo parlando svegliamo le carte ecco perché io credo che la legge sul PCTO non solo debba essere cambiata ma debba essere rivista dalla base come principi fondanti perché io non voglio educare i giovani ad uscire che sanno l'inglese perché così sono pronti per affrontare il lavoro voglio ho finito voglio che quei giovani possano imparare l'inglese perché possono muoversi e parlare nel mondo poi eventualmente lo useranno anche per motivi di lavoro in base a quello che ho detto io chiederei due cose se è possibile di integrare i documenti facendo come dire un punto sulla questione integrando il punto dell'innalzamento ai 18 anni con il documento nazionale dell'FLCCGL che dice più o meno questo ho cercato di riassumere ripensare il sistema nazionale di istruzione nella prospettiva di rendere esigibile il diritto all'istruzione e alla formazione per tutto l'arco della vita avendo come obiettivo il raggiungimento dell'obbligo scolastico da 3 a 18 anni secondo punto creare percorsi didattico-formativi misti che permettano di mantenere all'interno del circuito scolastico l'unico e l'alunico in condizioni di fragilità socio-culturale e psicologica spesso a rischio di dispersione scolastica e devianza giovanile questo perché credo che lo dobbiamo a tutti loro grazie grazie